GF VIP 7, dopo l'ultima litigata torna il tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, video. Continuano gli alti e bassi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria all'interno della casa del grande fratello VIP. Dopo l'ultima discussione tra i due, avvenuta per colpa del cucchiaio da cucina incriminato è tornato il sereno all'interno della coppia. Edoardo aveva perso le staffe dopo aver visto la sua fidanzata giocare con la panna in compagnia di Antonino Spinalbese, che proprio il volto di Forum non può tollerare all'interno della casa. Subito. Si è lasciato acceccare dalla gelosia tanto da aver deciso di lasciare la Fiordelisi il giorno di San Valentino. Donnamaria ha usato parole molto forti contro la sua compagna di avventura, parole che a quanto pare la diretta interessata si è legata al dito. Nelle ultime ore, Edoardo si è infatti tranquillizzato e ha provato ad avvicinarsi sempre più alla vippona. Non essendoci stato un chiarimento vero e proprio, Antonella non si è fatta del tutto avvicinare. Ma poco dopo, ha ceduto alle avances di lui, chiedendogli. Edoardo ha provato a farle gli occhi dolci, stai con me per sempre trovando la risposta stizzita di lei. Beh col binocolo, meglio di niente ha provato a sdrammatizzare lui. Ma Antonella ha cercato ulteriori risposte. Ok mia regina. Si mia regina, posso fare qualcosa per te mia regina ha continuato a stemperare la situazione Edoardo. Antonella gli ha lanciato così una frecciatina, che però sembrerebbe sancire a tutti gli effetti La pace fatta 32 E' beton, după care l'intind, si el devine tare in timp, așa-i beton-u Underground, de 97 am dat tonu, da nuca vodafonu, si acum rap-o-i moda onu, așa-i Si zici ca stom ford, la cum mă comport, in treaba asta nu-i loc de confort, rigor, ci-o mor tot. Sunt un crucișător, lansandrachete aerosol, încă de când el era broke, si se usa da aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce un miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari din tor. Că știi ca după primi ciocan umane, îți precier și dau jos carul mare, astrologia treaba ca...